Abbiamo fatto shopping. Quanto volto? Cinque e nove. Io sono una principessa moderna e quindi faccio quello che fanno poi i ventenni. Poi facciamo un brindisi, ragazzi. Barcellona, parte domani per Barcellona. Mi è arrivata tantissimo che non andavo a Barcellona a trovare la mia famiglia. Tommy finora non era mai stato in una trattoria romana, allora io l'ho portato da Danilo. Barcello per me è molto più di un amico, posso definirlo come un fratello. Grazie.